Il 2024 sono 90 anni di esistenza del consorzio del formaggio parmigiano reggiano, non del prodotto che esiste da oltre mille anni e qui stiamo a celebrare, stiamo celebrando i mercati internazionali europei. La Francia è responsabile di oltre il 20% dell'export di parmigiano reggiano con 14.000 tonnellate ed è un mercato che conosce molto bene i formaggi, quindi ha anche una valorizzazione dello stesso. Il parmigiano reggiano è un prodotto iconico e quindi lo sviluppo non può che avvenire nei mercati internazionali su un tema di grande identità e distintività del prodotto, in primis organolettica ma poi anche tutti i valori che lo rendono molto di più di un pezzo di formaggio. È fondamentale che i produttori, quindi chi fa il formaggio, collabori con chi lo vende, che sono gli operatori commerciali, in una partnership per riuscire ad aggredire a valore i mercati internazionali. Quindi il futuro ci deve vedere sempre più impegnati nella qualità, nella regolamentazione dell'offerta e nella protezione del prodotto. Perché non dimentichiamo che purtroppo il mercato internazionale è invaso dei parmesan, del reggianito, dei parmesau che sono non solo un togliere lo spazio a quello vero ma soprattutto ingannano il consumatore. Nel corso del 2023 si sono realizzati nel territorio del parmigiano reggiano quelli che noi chiamiamo i pali, cioè dei contest tra formaggi e chi ha vinto questi pali qui viene celebrato. Ma non solo, abbiamo dei riconoscimenti particolari perché tra questi 11 abbiamo anche identificato con una giuria internazionale di assaggiatori quello con la migliore struttura e quello con il migliore bouquet organolettico. Perché è importante essere qui e fare tutto questo? Perché attraverso queste operazioni siamo in grado di comunicare al mondo che il parmigiano reggiano può essere utilizzato anche nelle loro cucine. Partiamo dalla Francia, il mercato internazionale europeo più importante e già la Francia sta parlando di questo fantastico prodotto. Grazie a tutti.